Ho creato ragazzi per voi, per mettere per andare al mare, però adesso ho fatto questi due, uno per il mare e uno per l'ufficio, perché così ho messo i ganci sotto. Dall'altra parte abbiamo l'effetto contenitivo immediato, che sembra davvero più bello, e poi in 28 giorni mi aiuta anche a curare. Quindi direi decisamente be good, un nuovo viscentesimi, vediamo qual è l'effetto indossato su Ana. Vediamo qual è l'effetto indossato su Ana.